Ciao a tutti, ciao, buonasera. In tantissimi mi avete chiesto di parlare di quello che è successo a Federica, Federica Toscano. Premetto e parto con questa frase, un vero schifo. Io mi vergogno profondamente di questa cosa. Da italiano me ne vergogno profondamente. 77.000 euro per i genitori dell'insegnante che morì dopo il vaccino AstraZeneca. Questo è il risarcimento che hanno deciso. 77.000 euro per Federica Toscano. Attendo che siete collegati, è una cosa indegna, una cosa indegna, vergognosa, vomitevole. Mi vergogno profondamente in questo caso di essere italiano perché è una cosa veramente che è fuori da ogni logica. La vita di una persona vale 77.000 euro. Cioè, veramente è una cosa triste, veramente è una cosa triste. Sto leggendo Open, quindi, ismentibile, sto leggendo Open, Open di Mentana. AstraZeneca, che dice attualità AstraZeneca, Vax Severia, l'inchiesta Liguria Sanità, trombosi vaccini, questo è il titolo. Questi sono gli hashtag dell'articolo. Federica Toscano, il risarcimento di 77.000 euro per i genitori dell'insegnante che morì dopo il vaccino AstraZeneca. Intanto è stato appurato che morì dopo il vaccino AstraZeneca, per colpa del vaccino AstraZeneca. La madre e il padre chiederanno di aderire alla mediazione civile nei confronti del Ministero della Salute e auspicano un intervento del governo. Allora, Giorgia Meloni, adesso la prego, Presidente Meloni, basta chiacchiere. Qua si parla di commissioni d'inchiesta, varie stronzate varie. Basta chiacchiere. Perché non è possibile che una persona morta per della merda iniettata, che è accertato che per colpa di quella merda iniettata, venga risarcita di 70, i genitori vengono risarciti di 77.000 euro. Niente, niente. Poi penso che i soldi non siano importanti in questo caso, ma chi ha colpa deve pagare. Cioè è una cosa schifosa, è una cosa che è fuori da ogni limite. Algoritmo, sbloccati perché mai rotti i coglioni. Non è possibile che se parlo di queste cose non vuoi farlo sapere. È una notizia ufficiale, pubblicata, sto guardando open, sto guardando open, che è il che fa checker di Facebook, che l'algoritmo rompe i coglioni. Sbloccati e fai sì che la gente gli arrivi la notizia. Perché dobbiamo parlare di queste cose. Scusate i termini, ma sono cose che non sopporto. Sono cose che, ve lo giuro, spaccherei il computer. Federica Toscano era un'insegnante di 32 anni, è morta il 4 aprile 2021, in seguito alla vaccinazione con AstraZeneca contro il Covid-19. Un decesso che secondo una consulenza è da ricondursi al vitto, ovvero alla rarissima trombosi cerebrale, rarissima sto cazzo, trombosi cerebrale, associata a piastrine basse che può scatenarsi nelle giovani donne dopo l'immunizzazione con i vaccini ad adenovirus. Vi faccio vedere perché non lo dico io, quindi voglio vedere se l'algoritmo ha il coraggio, l'algoritmo ha il coraggio di bloccare open che è il fact checker di Facebook. Questa è la persona che è morta dopo il vaccino, colpa del vaccino AstraZeneca. Una delle tantissime e questa però è una delle pochissime che hanno dichiarato. Guardate, l'articolo di open, quindi algoritmo ti autocastri da solo perché non puoi bloccare questa notizia perché è una notizia del tuo, sto leggendo, una notizia del tuo fact checker di Facebook. Quindi sbloccati perché avete rotto i coglioni di nascondere la verità. Avete veramente rotto i coglioni, lo dico. Ovvero una rarissima trombosi morta per una rarissima trombosi cerebrale, rarissima ste due palle, associata alle piastrine basse che può scatenarsi nelle giovani donne dopo l'immunizzazione con i vaccini ad adenovirus. Nel giugno 2021, per chi non lo sapesse, AIFA ha spiegato che c'è un caso ogni 100.000 a dosi del 2021. Quando verrà fuori la verità saranno cazzi, per voi saranno veramente cazzi. Comunque in sostanza io vado al punto, il Tribunale di Genova ha deciso che i genitori di Federica Tuscano devono essere eserciti con 77.000 euro, gli ha fatto l'elemosina per quella morte. L'elemosina hanno fatto. I genitori di questa ragazza qua, 77.000 euro per la morte. Per colpa di una merda, per della merda iniettata. C'è una cosa vergognosa. L'edizione genovese di Repubblica fa sapere che il Ministro della Salute ha già detto no. La posizione del Ministero è contraria ai criteri civilistici sul rigiarcimento del danno, dice l'avvocato Bertorello, per cui aspuco alla luce delle difficoltà di questa causa l'intervento del governo per tutelare i familiari delle nove persone decedute in Italia. Le nove che hanno riconosciuto. Le nove che hanno riconosciuto. Perché non prendiamoci per il culo. Scusate ma io sto parlando diretto e schietto. Sto dicendo quello che penso. E una persona deve avere il diritto sacrosanto di dire quello che pensa. Poi puoi essere sbagliato per l'amore di Dio. Ma tutti i morti che ci sono adesso intorno a noi ce li devono spiegare. Porco Giuda. Ce li devono spiegare. E l'algoritmo non puoi bloccare queste notizie. Avete rotto il cazzo di bloccare queste notizie. Scusate il termine. Avete veramente rotto i coglioni. Avete veramente? Avete? Non possiamo dire quello che pensiamo? Io sto leggendo open il fact checker di Facebook. Porco Giuda. Sto leggendo il fact checker di Facebook. Che mi correghi Giuda perché ho detto porco. Il governo deve intervenire. Io chiudo computer. Il governo deve intervenire perché 77 mila euro di elemosina. 77 mila euro di elemosina per una persona che è morta colpa di una merda iniettata. AstraZeneca che era merda. C'è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa. Il governo deve intervenire. Bisogna fare subito una commissione di inchiesta. E va fatta la commissione di inchiesta anche per andare a capire perché bloccano la possibilità di parlare liberamente. Di esprimere dei dubbi. Di arrabbiarsi per quella merda che sta succedendo intorno a noi. Fate veramente schifo. Siete vergognosi. Bloccano queste notizie. Rendetevene conto. 77 mila euro per la vita di una giovane donna. Veramente. Schifato. Io spero che il governo capisca che non ci può andare avanti così. Spero che il governo capisca che non è possibile prendere per il culo la gente in questo modo. Trattare la gente come delle merda. Non è possibile trattare la gente come merda. Veramente non è possibile. È una vergogna più totale. Scusate i termini. Scusate se ho detto merda, schifo, porco, giuda. Scusatemi. Però non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Io sono totalmente d'accordo con i genitori di questa ragazza. Con i genitori che hanno perso una figlia. Federica. E vorrei sapere quello che sta succedendo intorno a noi se qualcuno, se parte me e pochi altri ha il coraggio di ammettere che c'è qualcosa che non va bene. Se qualcuno ha il coraggio di tira fuori le palle. Capiterà bene a chi ci blocca. Io non lo auguro a nessuno, ma potrebbe capitare. Anzi, potrebbe capitare a chi ci blocca, a chi non vuole diffondere queste notizie. Dopo cosa farà? Si autotrada le sberle in faccia? Perché ha proibito di far venire fuori la verità. Serve una commissione di inchieste immediatamente per andare a capire se c'è qualcosa che non va bene e se ci si può porre un rimedio. L'avete capito o no? C'è veramente, veramente. Una cosa indegna. Questa proprio mi fa incazzare. Io mi sto trattenendo. Onestamente mi sto trattenendo. Lo dico all'algoritmo. L'algoritmo mi sto trattenendo perché quello che ho dentro vorrei dire delle cose che poi potrei pentire perché prenderai 100.000 querele. Quindi evito solo per le querele. Però mi fate vomitare. Mi fate letteralmente vomitare. Vado incesso adesso. Vomito. Tiro l'acqua e vi mando giù uno sciacquone con i miei pensieri insieme a voi. È una cosa vergognosa. Scusate. Mi dispiace per questi genitori perché è un'umiliazione. Perdere un figlio e tu per un figlio ti giudici di 77.000 euro. Tengo la limosina. Ma andate a fare in culo con 77.000 euro. Di cosa stiamo parlando? Che intervenga il governo. Che intervenga il governo. Devono pagare queste case farmaceutiche. Devono pagare per il danno che hanno fatto. Per i danni che hanno fatto. Ma stiamo scherzando? Devono pagare anche quelli che bloccano la possibilità di esprimere dei dubbi con tutta la merda che succede intorno a noi. C'è un limite a tutto. Più bloccate più la gente capisce il fatto non lo dico. Bloccano le notizie e non capiscono che è ancora peggio. È ancora peggio perché la gente si preoccupa ancora di più. Comunque notizia di Open. Ho letto una notizia di Open che è il fact checker di Facebook. Vuole vedere se hanno il coraggio di bloccare e di non mandare le notifiche con delle notizie del loro fact checker. Nominato da Facebook e da Meta. Ovvero quelli che dovrebbero controllare le notizie. Ho letto una loro notizia. Quindi voglio vedere se hanno il coraggio di autobloccarsi. Che vergogna. Che schifo. Che schifo. 77.000 euro per la morte e per la vita di una ragazza. Una vergogna. Una vergogna. Non bastano i milioni di euro per queste cose. Non bastano i milioni di euro. Ci vuole la galera per queste cose perché è colpevole. Dei soldi non ce ne frega niente. Noi vogliamo vedere in galera i responsabili presi dietro le sbarre a vita pane d'acqua e insetti. Non ce ne frega niente dei soldi. A noi dei soldi non ce ne frega niente. Forse non avete capito. Noi vogliamo vedere dei processi con la gente che finisce in galera dietro le sbarre per sempre. 77.000 euro non ce ne frega niente. Neanche di un milione di euro se ti muore un figlio. A me se morisse un figlio per della merda iniettata non me ne frega niente a me di un milione di euro. Di 10 milioni di euro. Me ne frega di vedere dietro le sbarre a pane, acqua, insetti e merda. Ciao a tutti.